Altri soldini freschi in arrivo ragazzi, altri soldi freschi in arrivo e questo è sempre un bene per carità prima di cominciare come sempre iscrivetevi al canale, un bel pollicione su se vi piace il video e tanti commenti come fate sempre cosa sempre molto gradita, dicevo soldi freschi in arrivo da chi ovviamente? Dall'omino della copertina Jan Pietrauge attualmente in prestito all'Entracht Frankfurt verrà molto brevemente, anzi sicuramente viene riscattato perché una delle clausole, anzi la clausola principale per il riscatto del giocatore era proprio quella che la squadra si salvasse che l'Entracht si salvasse, così sta succedendo perché ormai mancano poche partite, l'Entracht ha un vantaggio di 13-14 punti quindi assolutamente è in zona salvezza, si salva, si salva mi domando ogni tanto se sarebbe stato utile a questo Milan in questo momento Auger è vero che Pioli non l'ha mai visto, non l'ha mai ben voluto, un motivo è sconosciuto anche perché quel poco che l'ha fatto giocare, perché l'ha fatto giocare poco, non ha dimostrato di essere così scarso dal mio punto di vista in questo momento storico del Milan in cui stiamo soffrendo, in cui abbiamo dei problemi di stanchezza mentale e fisica lì a destra magari una manina in più l'avrebbe dato, magari anche a sinistra perché comunque il ragazzo è ribaltabile da entrambi i lati invece di dire poliedrico oggi diciamo ribaltabile, quindi poteva tornare secondo me utile alla causa però intanto il Frankfurt deve darci 12 milioni di euro, noi l'abbiamo pagato 4 e mezzo è una piccola plus valenza, comunque ci abbiamo guadagnato e sono soldi che portiamo a casa tutto sommato va anche bene riguardo al discorso sarebbe se fosse tornato utile, non lo so, secondo me sì è vero anche che l'Hanktrak praticamente il ragazzo non gioca mai entra sempre al 78esimo, 76esimo, titolare forse 4 volte in tutto il campionato ragione per cui è una riserva, è un panchinaro a tutti gli effetti all'Hanktrak e questo è un dato di fatto purtroppo, nemmeno in Europa League ha un grosso minutaggio anche lì entra sovente come riserva stasera se volete, magari lo vedrete, lo potrete vedere se mi sei evoluto o involuto perché c'è la Barcellona, entra Frankfurt, quindi c'è la partita in cui Auger magari i soliti 10 minuti potrebbe anche giocarli mi chiedo perché l'ha preso l'Hanktrak, sicuramente ci vedeva qualcosa di più e poi evidentemente col tempo ha scoperto non essere così tanto adatto al calcio tedesco e probabilmente neanche non un titolare, ecco però è obbligato, adesso è obbligato a riscattarlo perché la clausola è quella il contratto è quello, se si salva l'Hanktrak deve riscattare Auger e quindi arriveranno dei soldini freschi un'ottima notizia, un'ottima notizia perché con tanti ce n'è sempre bisogno soprattutto nelle società calcistiche che devono spendere soldi come la nostra per rinforzare la squadra pazza idea, pazza idea ma è la mia pazza idea attenzione, stavo pensando fatemi sapere cosa ne pensate anche voi, sempre con rispetto a educazione perché io espongo le mie idee e voi fatemi sapere le vostre pensavo, visto che lì davanti c'è una penuria terribile, c'è una sterilità e una reglietà pazzesca visto che Giroud è un perno fisso non è il giocatore come dicevo già negli altri video che si va a cercare la palla che torna indietro, che dribbla, che va in avanti ma è un giocatore che gioca molto purtroppo e fa nervosire questa cosa risponda con i suoi tacchi e tacchettini di testa è fortissima, non si può discutere però con i piedi e con il collaborare con la squadra ha un po' di lacune da questo punto di vista dal momento che abbiamo questo problema ormai sono tante partite, 4 gol in 6 partite è una cosa allucinante perché, la mia pazza idea non proviamo Leao al posto di Giroud? perché no? se voi ci pensate Leao non apprezza molto quella posizione e Pioli non apprezza molto farlo giocare quindi è un'idea che rimane fra noi ma che potrebbe anche arrivare magari in un certo qual modo come lampadina che si accende a Pioli perché a un certo punto, io dico visto che Leao comunque ha il piede ha il dribbling, ha la potenza ha la precisione di tiro salta l'uomo, va a recuperare le palle va a cercare i compagni perché? perché non provarlo? cioè per quale motivo non si potrebbe provare? metti Giroud davanti e dietro metti Leao al posto di Diaz e a sinistra puoi mettere Rebici è vero che non è al massimo la condizione oppure puoi far partire Leao inizialmente a sinistra nel suo ruolo Diaz dietro Giroud e a un certo punto togli Giroud, metti Leao e fai entrare Rebici a sinistra il succo insomma è perché non provare Leao prima o seconda punta? perché non fagli fare il centro avanti? l'ha fatto qualche volta non l'ha fatto neanche così in maniera malvagia io penso che possa essere una soluzione per questa aridità, questa sterilità di gol non so cosa voi ne pensate fatemi sapere sotto nei commenti se per voi è una cosa plausibile o visto che Pioli me lo vede non sarà mai possibile però a me mi si è accesa questa lampadina e ho detto ma secondo me secondo me Leao lì davanti può fare può risolvere un po' di situazioni possiamo finalizzare in maniera più dignitosa io la vedo così fatemi sapere cosa ne pensate intanto vi auguro buona giornata sempre Forza Milan a più tardi domani adio